Partirà lunedì il nuovo servizio di navetta elettrica gratuito che collegherà il centro difenza con il centro commerciale La Filanda. Sette fermate lungo una tratta che avrà come capolinea via 20 settembre e via della Costituzione davanti alla Casa della Salute. Il nuovo Gringo Bus è messo a disposizione sempre dal gruppo Erbacci, acquistato dalla realtà privata per 285.000 euro grazie anche ad un bando regionale che ha coperto metà dell'investimento. Al comune costerà 90.000 euro all'anno e permetterà di garantire finalmente un collegamento con la Casa della Salute per le persone, soprattutto anziani, in difficoltà nel raggiungere la nuova struttura. Non solo, come per il Gringo Bus di Piazzale Pancrazzi, sarà possibile utilizzare il parcheggio del centro commerciale pubblico dal lato di via San Silvestro vicino al distributore di benzina, privato ma da uso pubblico dal lato di via Granarolo, come parcheggio scambiatore e raggiungere il centro storico senza incorrere nel problema di trovare un posteggio per l'auto. Le corse saranno garantite dal lunedì al sabato in tre diverse fasce orarie. Il nuovo servizio porterà anche una modifica alla viabilità di via Naviglio, che all'altezza delle poste, dove sarà realizzata una delle fermate della navetta, sarà percorribile a senso unico in direzione di via 20 Settembre. Funzionerà analogamente all'altra linea che i faentini conoscono bene, quindi collegherà un parcheggio scambiatore immediato ridosso dell'ambito urbano di Faenza, che è il parcheggio della Casa della Salute, in prossimità della Casa della Salute, il CNA e della Polizia di Stato e collegherà quel punto di Faenza prima del cavalcaferrovia con il centro dove siamo adesso. Avrà le caratteristiche analoghe al gringo, quello da Piazzale Pancrazi, per tempi, per orari e anche come modalità di mezzo. È un non altro mezzo elettrico e quindi diciamo è in scia in quel progetto di trasformazione elettrica che questa amministrazione sta cercando di mettere in piedi. Oggi c'è una fisicizzazione concreta dopo due anni di lavoro, di pianificazione, di progettazione, di partecipazione con la cittadinanza che ha dato vita al piano urbano della mobilità sostenibile, che è ancora in fase di aggiustamento, ma questo assieme al recupero della stazione di Faenza è un altro passo concreto, reale, tangibile della volontà che l'amministrazione ha di implementare più servizi pubblici a servizio della città, dei suoi cittadini e del centro storico. Quindi il prossimo passo che si cercherà invece di compiere qual è? Il prossimo passo è quello già in programma di efficientare le altre linee urbane presenti sul territorio di Faenza, andando a intervenire sulla tempistica, quindi sui tempi di percorrenza, cercando di arrivare a dimezzarli e soprattutto andare a toccare altre parti del tessuto urbano di Faenza che hanno necessità di questo collegamento. Penso prevalentemente agli istituti scolastici che adesso non sono toccati da questo tipo di servizio e a noi interessa molto guadagnare fra virgolette clientela studentesca perché attraverso di loro sappiamo che il cambiamento avviene con più rapidità e anche con un po' più di passione.